Nel mondo dei motori ne abbiamo viste di cotte e di crude Ci sono auto bellissime, ci sono auto tecnicamente perfette Ci sono auto velocissime e ci sono auto che emozionano Sono un felicissimo possessore di Subaru Impreza dal 2015 Conosco molto bene il marchio e questa tipologia di auto è una di quelle che mi emoziona Che non mi fa mai perdere la voglia di guidarne una Infatti con la mia Subaru del 2002 nella fattispecie la Bug Eye Mi diverto moltissimo Oggi ho avuto l'onore di portarvi sul canale la sua sorella maggiore Ovvero una Subaru Impreza GC8 del 1999 Per l'onore di portarvi sul canale la sua sorella maggiore Tende a sottosterzare un po' ma queste gomme sono invernali E' vero Bel diavoletto Eh già è proprio un bel diavoletto E' stata strocherata, è stata portata a 400 cavalli E su queste strade potrebbe tranquillamente giocarsela con le migliori Evo Ma anche le migliori Subaru più moderne Questa macchina arriva da Tavulia Che spettacolo E oggi io, Tony Anger e Simone il proprietario Ve la raccontiamo Ciao Simo Ciao Sei arrivato dalla città dei motori più famosa al mondo Per colpa di un tizio Da cui prende il nome mio figlio Ragazzi Bentornati Su Officina del Pilota Oggi abbiamo questa magnifica Subaru Impreza Che è la versione prima della mia Di che anno è questa? Questa qui dal 99 99 99 GC8 GC8 Esatto Esatto Senti ma di originale insomma c'è il telaio Sì quello Esatto E basta Stavamo venendo giù cari ragazzi Tra le curve per fare dei camera car E gli facevo Vieni avanti vai indietro E ogni tanto Si sentiva Uno di quei botti che dice Cosa è Cosa hai fatto qui In poche parole Quella lì Il tastierino del Bang E quello non poteva mancare ovviamente Questo motore L'ho fatto con la passione Completo L'ho fatto anche la cilindarata Ah l'è strocherato? Sì l'ho strocherato Adesso è 2 e 2 2 e 2 2 e 2 Bello resistente Affidabile Speriamo veramente Perché quello che avevo prima ovviamente È chioppato Eh ragazzi Purtroppo Subaru Se esageri È così Se esageri succede un po' Un po' Un po' su tutte Sì Praticamente Albero BL Pistoni Quello Ho preso un monoblocco Molto rinforzato Che tiene fino a 600 cavalli Dove? Dove l'hai preso? Sul transport L'ho preso E diciamo che vendono un kit Monoblocco BL pistoni Con l'albero Proprio per Che far rizzere Almeno loro lo garantiscono Fino a 600 cavalli Adesso ancora con i cavalli Non ci siamo arrivati Però Quanti ne abbiamo? Adesso siamo oltre a 400 Che sono già Più che sufficienti Per una macchina che pesa? 1230 kg Sì Sì dai Sotto i 1.3 Pressione della turbina? Pressione turbina 1.7 1.7 E due mappe La prima 1.1 La seconda 1.7 Però anche lì Anche lì Potrei andare oltre Diciamo Perché nella sua posizione originale Il turbo A due bar di pressione Fa gli stessi cavalli Che è 1.7 Quindi abbiamo deciso Con l'elettronico Dove lo mappate Eccetera Di lasciarla 1.7 È vero che non basta mai Perché quanto è la fine Quanto fai ste robe Vuoi sempre di più Vuoi sempre di più Vuoi sempre di più Anche perché con una 4x4 Così Scarichi bene a terra Sì Scarichi bene Ovviamente anche perché Montano anche i cerchi da 18 Non ho visto Gli ho omologati Proprio sul libretto 17-18 C'è un canale largo Perché vedo che la gomma È bella strecciata Che suppongo sia rimasta La 225 Quanto è? Sì 225 E qui sono già i Japan Racing? Sì Sono gli XR 527 Sì Mi piacevano molto Sono belli Poi bianca Col cerchio oro Spicca Questa non era bianca Mi hai detto Non era bianca all'inizio Era grigia Però per personalizzarmela Blu 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 Bianca Un bianco Quasi perlato Mi piace Esteticamente paurosa Sai Io ho la faro tondo Che è quella che è piaciuta meno Nella storia Anche se poi negli ultimi anni Si sta rivalutando Poi c'è la Blobby E la Hawkeye Però Il faro rettangolare Così Rimane sempre più bello Sì 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 Questa Il top Dell'estetica È la La coupé La 22B Che sono ormai Macchine Totalmente Inarrivabili Stiamo alle mani Esatto Sì Però guarda che Però dai Affascinantissima Grazie Su strada Bellissima Bellissima Fascina Fascina Sì Vedi la gente Vedi la gente Per strada Mi ha raccontato Che hai incontrato Un tale pecco bagnaia Esatto Un grande pecco Che mi ha fermato Esatto Mi ha fermato Io lusingato Gliel'ho dedicata Con due adesivi ovviamente Perché Dai Ci sta Ci sta Che bello che è il vostro accento Mi piace tantissimo Grazie No veramente Diciamo che tu hai fatto tutto questo Perché L'hai detto È una passione Ti sei divertito a farlo È proprio bello Sì è bello Ti fa stare bene È una cosa che fa stare bene Fa scaricare In tutti i sensi Sì È una cosa che fa bene All'anima Praticamente Monto un assetto Regolabile Mi sa come è proprio il tuo Sì Perché è quello verde Sì È abbastanza rigida Poi con la spalla È il mio Ma io ho la spalla da 35 È il mio Io lo dico Niente Dico solo Ecco Che senti tutto Ti porto tutto Le crepe Le v Niente Senti qualsiasi cosa Scricchioli Te lo ripercuoti Ovviamente sull'abitacolo Però Tanta roba Cambio 6 marce Cambio 6 marce Prima, seconda, terza, quarta corta Quinta, sesta lunga Questa è la più simile alla mia Esatto Il cambio ST Assolutamente quello Una cosa solo Che ovviamente L'ho revisionato il cambio L'hanno spessorato tra Una cambiata e l'altra Quindi è un po' più vicino Diciamo Di poco E però È migliorato Migliato in quel senso Il freno a mano Non l'hai allungato Come ho fatto io No 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 Lì ci sono arrivato ancora Perché devi aspettare la neve Per fare quello Simone tienitela stretta Faccio fede alle tue parole Ultime nel tuo video Che hai fatto Ragazzi Non date la via Esatto Tenetevela stretta Sì sì Io l'ho promessa ai figli Per cui figurati Quella è la scusa Che ho Però se ci pensi Che ho avuto Questa grandissima fortuna Di poter provare tante macchine Negli ultimi due anni Ma un bel numero E dopo è lì Che valorizzi Ancora di più La valorizzi Esatto Sì Perché poi Con questo budget Che adesso 14.000 quando hai presa Poi siamo arrivati A 40-50.000 Esatto Però effettivamente Servono il doppio Di soldi Per questo tipo Per questi tipi Di sensazioni Di prestazioni E tu lo sai E tu lo sai Sì Sì La sento già 100 kg più leggera Della mia Che la mia fa 3.350 Quindi è Sono centinaio precisi Precisi E questa è ancora Più desiderabile Mi piace molto Questi ricordi Dei rally Del mondiale del 95 L'unico vinto Da Colli McLean Con questa macchina Una leggenda Del rally Che però in realtà Un solo mondiale L'ha vinto E l'ha vinto Con questa qua Basta una volta Per diventare leggenda Assolutamente Sì Assolutamente Se guidi in quel modo Sì Come te la senti? Dietro c'è il Cusco Sì Senti che sound È bello Bellissimo Da dietro pensavo peggio Qui ci sta bene Molto cupo Sì sì È leggera Molto Quindi rispetto alla tua In teoria La fermi anche prima No? O no? Come ti sembra L'infrenata? Sembra una di quelle macchine Che non averla in garage È da stupidi Grazie Tu ci stai facendo sentire No Non voglio farti sentire No Sto scherzando Ma questa è una di quelle Che desidero Devo dire la verità Tende a sottosterzare un po' Ma queste gomme Sono invernali È vero Come invernali Assolutamente Sì 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 Al punto ricorda S'allarmi anato Bel diavoletto Abbiamo saltato Perché è troppo Troppo rigido Comunque frena Molto bene È molto bilanciata In generale A parte questo salto Che abbiamo fatto Che ha toccato un po' sotto Ma quello è sempre Il discorso dei cerchi e gomme È assolutamente bilanciata Sì Avrei ammorbidito Un pelo l'assetto Il Tain tende ad essere Molto duro Ed è un peccato Perché nella strada Così sconnessa Teoricamente Potreste andare Ancora più forte In termini di equilibrio Generale della vettura Spaziale Spaziale Gomma invernale Quindi Meno tenuta Ovviamente qui L'asfalto ne ha di grip Però Non ho se immaginare Come possa andare Questa macchina Con una bella estiva Una bella semi slick Con il 17 Con il 17 Allora È bello Come eroga Perché non ha una Nel momento in cui Entra la turbina Una botta Che senti tanto Il cambio di velocità È abbastanza lineare Però È vero pure Che la turbina Ecco ora siamo In terza Prima che attacca Ci mette un pelo Sentiamo Ai 5 Però poi Quando prende Va su fortissimo Comunque questa Te le fa studare Le mani Anche da passeggero Senti che bello Anche lo sterzo Tutto duro Tutto davvero uomo Molto duro Anche il pedale La frizione Rispetto alla tua Vero? No è simile Dai È simile Avendo una rapportatura Corta nelle prime Quattro marce In discesa Puoi tranquillamente Evitare di scalare Scalare Evitare quella botta Te frena Cioè se sei in terza E c'è un tornantino Del genere Che lo fai tranquillamente In terza marcia Non c'è bisogno Non c'è bisogno Di andare a levare Anche qui La fai scorrere La fai entrare Con pelo di freno Senti che bella Ma un treno Senti anche Come è rapida Nei cambi di direzione Senti come te la spinge Dentro bene La sensazione Veramente di stare attaccato La sensazione di grip Che hai È impagabile Oh la frenata Molto bella Attenzione quando lasci Il gas In curva Sì perché ti si alleggerisce Tende a partire dietro Sì 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 Perché hai le termiche Però molto bene I trasferimenti di carico Ottimi Ora qui ci serviva La seconda Sì forse qua Dovevi metterla Ma lo senti che telaio Rigidissima Ma al tutto giusto La sicurezza Spaventosa Scarico da 76 Infatti sento che Come contro pressione Attacca Un pelo dopo Di quanto Mi sarebbe piaciuto La turbina Sì sì Però c'ha Un'erogazione Molto lineare Quando prende Sale che è un piacere Che ne pensi del cambio? Bisogna abituarsi È strettissimo L'ha avvicinato Da morire Però Quanto bello Quanto funziona bene In un misto stretto Benissimo Benissimo Guarda non so Ho avuto Il feeling Di fare punto attacco Ma lo gestisce Molto bene La macchina Vero? Con la pedaliera Della Subaru Tu schiacci forte Il freno E ce l'hai Quando vai a frenare Anche se Stacchi un pelo Dopo Quindi meglio Perché Devi fare più pressione Sul pedale E a quel punto Corichi La spalla Del piede Perché Chi ha 43 e mezzo 44 come me Di piede Il tallone Non riesce a girare Che tocca Tocca sotto sul tunnel Uguale Stessa sensazione Siamo sempre Siamo sempre lì Nella top 3 Sempre lì Sempre lì Delle macchine Che costano Nei 50.000 Potrei dormire così Con il motore Al minimo Potrei Andiamo a fare un'offerta A Simone Se ce la vende Bellissima Bellissima Quindi è stato Un impegno grosso Anche da questo punto di vista Qua a livello estetico Non ho una passeggiata Te la sei personalizzata tu A differenza delle altre Che tutti ci comprano Sia anche i paraurti Davanti Io invece Il paraurti È della old Sua Però modificato Gliel'ho fatto modificare Io In modo da comunque Personalizzarmela Distinguermi dagli altri Oltre che è bianca Ho fatto questa cosa qui Può piacere E non Però è la tua È la mia Dicevi anche la lettone Anche la lettone Esatto L'ho fatto ritagliare Riprofilare Gli ho dato l'inclinazione Che mi piaceva di più Ovviamente guardando un po' Su Instagram Foto cose varie In Giappone Molto È molto giapponese Sì Infatti Dico nella personalizzazione È molto giapponese C'è proprio quello stile lì Tra l'altro a proposito di questo Ne parlavamo prima Visto che È cambiato Lo stemmo Il loghettino Lo stemmo A proposito di Giappone Praticamente questo qua Non so se lo sapete Ma le prime VRX Che furono modificate in STI Gli ingegneri Subaru Scelsero di metterlo Di cambiare il loghettino Per distinguerle E misero il logo Con il fondo rosa Perché è rosa Per il Giappone È il colore del samurai Del guerriero Come il fiore del ciliegio Che è bellissimo Ma ha una vita Effimera Che dura poco Quindi il guerriero è il più bello Fra gli uomini Questo è il significato di questa rosa Tra l'altro l'hai ripreso anche Ho capito Con le scritte Con le scritte È il contrario rispetto a noi Per loro è un colore molto mascolino Molto mascolino Ha quel significato lì È bella Bellissima Mi piace tantissimo Poi l'abbiamo detto prima Ma il 63 di Pecco Subaru vuol dire unire Perché c'è questo significato Unire Stare insieme A noi La Subaru Impreza A noi di officina del pilota Ci unisce È vero Matt La punti davanti di quei freni Si alleggerisce dietro Frena il differenziale Frena le ruote dietro E lei ti parte un po' di culo Infatti Non è proprio consigliabile Lasciare il gas A centro curva Soprattutto con le gomme invernali Vedi Si è alleggerita tanto Si è rimossa mentre frenata Ho sentito davanti Quanto tenda a sottosterzare Quando non trova il grip È vero che ho mollato il freno Quindi non c'era carico davanti Un assetto Un po' meno rigido Non ti fa sottosterzare così Va a copiare un po' meglio No nel complesso È una macchina Da mettere in garage Assolutamente Questo esemplare Anche tenuto bene Molto Pensato bene Cioè modificato negli anni Con una logica Nonostante la frenata sia ottima Quindi un 4 pompanti Brembo di serie Che è stato mascherato Di colore bianco Io personalmente Che amo molto frenare Ecco forse un upgrade Lo farei Ancora di più Si sono messi Dietro Mi diceva prima Simone Perché davanti C'è lo stesso pacchetto Dell'STI Come la tua Dietro no Però attenzione Perché se aumenti La frenata dietro Ti scompone ancora di più Se freni a ruote dritte È un conto Se freni con lo sterzo Un po' a carico È un altro Hai ragione Aumenta ancora di più Quel sovrasterzo Ripeto Sono stili di guida Sono scelte Potrebbe essere buono Frenare più forte Più divertente In un discorso pista Che devi guidare Un po' più fluido Forse la frenata L'aumenterei Solamente Sull'avantreno Con questa Vettura Che pesa 100 kg Meno della mia Il 4 pompanti Originale Va bene Funziona Nelle versioni Dopo Fino ad arrivare Alle super moderne Che pesano Anche 1500 kg E la frenata Davanti serve Lotus No che è Lotus Ferrari Ferrari E anche un M2 Viola In tinta con la febbra Non la commento Meglio la Fiesta Lo spoiler dietro Ti piace come ti attacca Lo spoiler dietro Mi è piaciuto Soprattutto sul tratto finale Dove riesce a lanciare Terza, quarta, quinta E infilare pure la sesta Quindi ti avvicini A 200 all'ora E tu in quel frangente Mi hai proprio detto Matta Sento sicurezza Sulla macchina Perché Sicurissimo Lo senti Lo avverti Che si siede un pochettino E tiene bello Il retrotreno Bello schiacciato Una macchina Che ha un grip Impressionante Anche se non la tocchi Da originale È una Subaru Impreza Del resto Sono abbastanza rinomate Per questo Il Tein Ecco attenzione Sul Tein E qui dovremo Non posso spezzare Una lancia A favore del Tein Anche perché lo conosco bene Lo monto sul mio Sul mio Subaru Secondo me È un asset troppo rigido Soprattutto per strade Sconnesse così Anto la macchina Deve copiare un po' Di più Abbiamo saltato un po' Abbiamo saltato È pieno di macchinette carine oggi Sì Abbiamo saltato un po' E diciamo che Quello Perdona Passatemelo Beccheggio e rollio Delle auto Da rally Da neve Da sterrato Che le vedi Quanto si coricano davanti Anche lateralmente È l'essenziale Per guidare forte In un misto stretto Con poco grip Quello che dicevamo prima Se non fai il trasferimento di carico Non giri attorno al punto di corda In quel caso Lì serve È essenziale Nel complesso Una macchina Da panico Da panico Da panico Intendo Bella macchina Cioè ti fa sudare le mani Penso più a te Che la conosci Meno A me più che sudare le mani Fa godere Le fa godere anche a me Oh senti Facciamole vedere queste felpe Guarda che belle Io l'ho messa anche in tinta con la macchina C'è lo shop Shop online E' bello vedervi con le felpe e i cappellini A proposito Io ho dei capelli orrendi Ma tu mi hai fregato il cappello Come il parma cotto a Catatavilla A Catatavilla È sempre un piacere stare insieme Però Se non vi iscrivete Cioè È meno piacevole Esatto E state anche meno insieme a noi Quindi iscrivetevi Ecco È ora di pranzo Io ho una fame Della madonna Perché questa comunque ti fa digerire 12.37 Sono tre ore che giriamo con sta macchina Ma perché io sono stressato qua Perché c'è troppo rumore Senti Non vorrei che questo giorno finisse mai Guarda È una roba Cioè Una simbara impresa Che viene data a Vuglia Con il 46 Il 63 E io ci devo essere per forza Provengo dalla città proprio onoraria Se non ti iscrivi con una macchina del genere Cioè Il top del top Ah sì sì Ma ne vale veramente la pena Non Guarda che bello Il cappellino Ah sì sì Gli occhiali Ah sì sì Gli occhiali Cappellino Ufficiale Ufficiale Sì sì Della ProDrive Sì sì Della ProDrive Anche lì tanta roba Andiamo ancora su Eh sì Eh sì perché quando dal Giappone arrivarono in Inghilterra Gli inglesi ci messero le mani Quel team lì di rally ne sapeva qualcosa E sapeva qualcosa E sapeva I'd give you the world like I promised I would Even though you wouldn't do the same